Corsa contro il tempo per evitare l'apertura delle discariche a Battipaglia nell'area della vecchia cava di Serroni utilizzata tra gli anni 60 e la fine degli anni 70 per fornire materiale inerte ai lavori dell'autostrada Salerno Reggio Calabria. Nonostante le opposizioni delle popolazioni interessate, dei proprietari della cava e delle amministrazioni locali, c'è il serio rischio che il commissario delegato dell'apertura delle discariche, il prefetto Vardè, possa decidere domani di andare comunque avanti con il progetto firmando un'apposita ordinanza. Non è lo stesso avviso invece il sindaco di Battipaglia Santomauro che ha più volte ribadito di avere un accordo preciso con l'amministrazione provinciale per presentare un piano alternativo. Il problema però è individuare comunque una discarica da 200.000 tonnellate come previsto da Vardè o da 50.000 come proposto dai comuni nell'ambito di un polo ecologico integrato. Sette amministrazioni da Salerno a Battipaglia, Giffoni e Vallepiana che hanno già ospitato o ospitano tuttora discariche di impianti per il trattamento dei rifiuti hanno lanciato un chiaro messaggio agli altri 19 enti che fanno parte del subambito individuato dalla provincia sottolineando che loro hanno già dato e che il nuovo sito dovrà essere realizzato altrove. Oggi nuova riunione monotematica del Consiglio Comunale di Battipaglia mentre a Serroni prosegue il presidio del comitato antidiscarica intenzionato a non fare entrare nella cava eventuali tecnici che dovessero essere inviati dal commissario. Grazie. 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 Grazie.